Bentornati all'analisi, al paragone tra Rosmini e Roepke e le loro idee sull'economia. Siamo giunti fino all'analisi del concetto rosminiano del regolamento della modalità dei diritti, che in Rosmini si può ritenere, per quei concetti che massimamente fa esprimere a Rosmini di quei contenuti che per Roepke sono quelli essenziali dell'autoliberalismo e dell'economia sociale di mercato. Ne abbiamo già accenato alla idea generale di Rosmini del regolamento della modalità dei diritti e adesso proseguiamo in questa analisi. Rosmini infatti dopo questa descrizione del concetto del regolamento della modalità dei diritti, ricordiamo che il regolamento della modalità dei diritti significa che lo Stato non è quello che crea i diritti, i diritti sono le persone, quindi i legami sociali invisibili, di giustizia sociale, di libertà universale senza dominio, che sono presupposti a qualsiasi governo e che devono essere però protetti. Quindi non basta un unico Parlamento, il Parlamento della concorrenza degli interessi, ci vuole una seconda istanza, il Tribunale politico. E qualora il Parlamento facesse una legge che non si limitasse meramente a regolare la modalità dei diritti, cioè di fare delle leggi che rispettano pienamente la libertà degli individui, e allora interviene il Tribunale politico. Allora questo regolamento della modalità dei diritti esprime a Rosmini che il compito dello Stato è di dare la cornice, di dare le regole, e che tutto il resto viene lasciato a ciò che in qualche modo, anche le leggi particolari per Rosmini sono espressioni di concorrenza, cioè sia il mercato che la politica è fatta di concorrenza, di concorrenza con regole, di concorrenza che è un mezzo e non un fine, un mezzo a realizzare l'ideale morale della libertà. E dopo la modalità dei diritti Rosmini elenca vari altri compiti del governo, e questo lui dice che è la protezione di tutti i diritti dei sozzi e del loro libero esercizi. Quindi se vogliamo così in parole di economia sociale di mercato, fare una politica di cornice. Il regolamento dell'esercizio dei diritti, cioè la definizione dell'interventismo liberale, con la distinzione tra interventi conformi e non conformi, tutti questi elementi di rep che troviamo in questo concetto rosminiano, viene qui ulteriormente specificato per la sua funzione, che ciascun individuo o società minore venga ad usare dei propri diritti in modo che, senza pregiudicare a sé, lasci la massima libertà all'esercizio dei diritti altrui. E questo, a ben vedere, è la definizione di sussidiarietà. Tale principio caratterizza quindi per Rosmini il senso della modalità dei diritti, ed è un'ulteriore prova che nel suo concetto di diritto, egli anticipa quel concetto di società che l'odio liberalismo definirà un secolo dopo. A questi due aspetti Rosmini aggiunge un terzo compito del governo della società civile, ossia l'associamento dei diritti privati ogni qualvolta lo esiga la necessità di evitare un male comune o l'occasione di ottenere un bene comune. Anche questo momento trova riscontro nel concetto europeano di ordo, ossia precisamente il tipo di intervento di assestamento, come abbiamo visto nell'ultimo videocorso. Ultimamente, come precisa Röpke ugualmente, così sottolinea anche Rosmini in modo perfettamente odo liberale che non si possono associare diritti, se non a condizione che non ne venga danno ai proprietari. Fine della citazione. Vale dunque per entrambi la conclusione di Mercadante, il vero nemico della proprietà non è il bene comune ma il bene pubblico. In questo quadro, come evidenzia sempre Mercadante, in Rosmini il bene comune ha la prevalenza rispetto al bene privato, che però prevale in ogni caso al bene pubblico. Da ciò risulta che la società assume per Rosmini una ragione formale di precedenza sui privati, ma in quanto deve portare dei benefici a tutti i consociati. Allora, il bene comune prevale sul bene privato, ma non sul bene pubblico. Il bene pubblico viene dopo il bene comune. Il bene comune diventa nel qualche modo il criterio morale. Infatti c'è da notare che Rosmini, tra il primo e il secondo aspetto che abbiamo sopra menzionato, ossia tra il regolamento della modalità dei diritti e la protezione di tutti i diritti dei soci. Tra questi due momenti, Rosmini inserisce un altro compito del governo e questo è il giudizio e composizione dei litigi. Quindi arriva in totale a quattro funzioni generali dei civili governo. Tal aspetto corrisponde all'idea di Roepke che lo Stato può e deve assumersi il ruolo forte e imparziale di un arbitro sopra le parti e i partiti, che veglia sul rispetto delle norme da parte di tutti gli attori sociali. Questa caratteristica la troviamo del resto esattamente in Rosmini, quando il rovaretano reclama che la società civile deve essere forte, cioè avere a sua disposizione una forza bastevole a reprimere i perversi e far cessare il timore nei buoni. Come si evince? Queste quattro funzioni del civile governo, tra cui il regolamento della modernità dei diritti e il primo in qualche modo riassume anche tutti gli altri, corrispondono esattamente a quegli elementi che Roepke ha definito come i momenti salienti dell'idea di economia sociale e di mercato. Con quest'analisi del testo rosminiano passiamo adesso a analizzare un attimino l'importanza della libera concorrenza e della proprietà privata. Come è stato già rilevato, Rosmini corrisponde con gli olo liberali nella valorizzazione della concorrenza come principio sociale positivo. Infatti per Roepke il guadagno e il profitto costituiscono le forze motrici e gli stimoli dell'agire del singolo individuo nei processi del mercato. A differenza di una comprensione meramente economista, Rosmini inserisce il concetto stesso di concorrenza in un significato più ampio, considerandone la dimensione sociale che si esprime nella sua giuridicità. Per concorrenza giuridica intendiamo concorrenza di diritti, usa la parola persino concorrenza di diritti, concorrenza protetta dal diritto di ragione. Quindi la concorrenza dove viene collocata? Nel riconoscimento dei diritti. Si noti bene, noi parliamo mai di una concorrenza realmente illimitata. Ecco perché dice concorrenza di diritto, no? Una concorrenza quindi secondo le norme morali di ogni concorrenza. Noi patrociniamo di Rosmini la causa di quella sola concorrenza che è limitata dal diritto razionale ma non d'altro. Per Rosmini il principio di concorrenza è quindi collocato nel principio di persona stesso e non è semplicemente una conseguenza a posteriore dell'incontro tra individui. Proprio per non considerare tale collocazione sociale antropologica del principio di concorrenza, Rosmini critica Smith, Adam Smith di astrattismo perché lui non considera questa dimensione sociale la concorrenza. Esattamente come fa un secolo dopo di lui Wilhelm Röpke. Infatti anche per quest'ultimo non c'è dubbio sul fatto che la libera concorrenza quale plebiscite de tout le jour istituita e garantita da un ordinamento sociale liberale basata sui diritti individuali viene affermata non innanzitutto per ragioni di produttività economica ma per il motivo etico e antropologico di realizzare un ordinamento sociale che rispetta la dignità individuale della persona. A parte che l'economia libera di mercato è quella che produce più successo economico ma il livello è la vera ragione per cui bisogna affermarla Rosmini e Röpke la cercano in motivi etici e antropologici. Così sia Rosmini che Röpke rifiutano in maniera chiara e per motivi etici prima ancora che economici ogni forma di economia pianificata o controllata e prospettano un ordinamento sociale che garantisca l'uso della maggiore libertà possibile a tutti i cittadini. Come si evince chiaramente la numerosa affermazione di Röpke è anzitutto un'esigenza antropologica per cui il liberalismo è da preferire a un'economia pianificata. Così entrambi potrebbero concordare con l'affermazione di Walter Eucken io sono un cristiano e da un punto di vista nettamente cristiano considera l'ordine della concorrenza come essenziale. Fine della citazione di Walter Eucken padre dell'ortoliberalismo della scuola di Friburgo. La concorrenza che insieme alla proprietà viene definita da Röpke come felice istituzione è quindi vista da entrambi come prodotto culturale della libertà umana non come un fatto naturale che fosse di per sé già un presupposto. Per questo la realizzazione della dimensione etica di libertà e quella della relazione di libero mercato risultano coimplicantisi al punto che secondo Rosmini è proprio con la nascita delle economie di mercato che si forma la società civile. Rosmini può dire più che si diffonde, più che si realizza la forma di libera economia più si istituisce la società. I due elementi per Rosmini sono indisciungibili. E quindi avviene il passaggio di incivilmento da società feudali e basati su relazioni di potere e sul saccheggio verso società civili. In questo modo anche l'idea di aumentare la ricchezza tramite la produzione segna l'avvento di una nuova epoca di libertà e civiltà. Il mercato è quindi una istituzione importante per salvare la società da tutte le ingiustizie. Questa è una citazione letterale di Rosmini del numero 2267 della seconda parte della filosofia del diritto per salvare la società civile da tutte le ingiustizie. Ugualmente anche Röpke afferma che grazie alle relazioni di mercato è possibile migliorare e questa è una citazione di Röpke è possibile migliorare il proprio benessere coi mezzi ricevuti da altri in virtù di un accordo di reciprocità. Questa relazione che si può denominare relazione di solidarietà prima abbiamo detto la concorrenza deve essere trasportata deve diventare cooperazione e non impedire cooperazione non impedire solidarietà significa procedere la citazione di Röpke significa che l'elevamento del proprio benessere avviene in modo che non solo non danneggia altri ma procura a questi come una produzione accessoria un aumento di benessere. Ma esso assume questa funzione sempre come mezzo non come fine sociale attenzione. Certamente ammette Rosmini il risultato della concorrenza può essere determinato non solo della virtù e dell'industria degli stessi individui ma ne confluirà anche la fortuna e le circostanze non è semplicemente è soltanto la virtù e la industria che determina alla fine il successo. C'è anche fortuna ci sono anche circostanze ma mai in nessun modo deve essere l'opera del governo che non discenda ai singoli individui appunto per cagione della sua imparzialità questo ovviamente è da Rosmini la richiesta etica al governo che non discenda mai a livello degli individui che resti fermo nella sua imparzialità in questo contesto anche Rosmini sottolinea il suo carattere di mezzo non di fine è a ben vedere in questo aspetto che l'odoliberalismo si distingue dal liberalismo classico da parte sua Rosmini insiste con chiarezza e vehemenza su questa distinzione quando da un lato afferma che niente certo è più di noi amico della libera concorrenza a tutti i beni poiché non si fraintenda questo vocabolo dice Rosmini in quanto Rosmini rifiuta quella concorrenza che si erige a unico fonte e principio di giustizia quindi ha significato di fine perché la concorrenza non sarebbe che un effetto di essa l'effetto di una giustizia che preceda al diritto di concorrenza e precedendo lo determina l'esistenza sull'antimonopolismo come garanzia istituzionale della libera concorrenza uno dei cardini del pensiero odoliberale di Roepke viene tematizzato esplicitamente soltanto una volta nel corpus rosminiano mentre per il pensatore tedesco esso costituisce il primo argomento a favore della concorrenza in rosmini assumo soltanto un valore sottordinato e quasi scontato quando denuncia la odiosità a cui nei tempi moderni venne a soggiaccere ogni materia di monopoli ogni maniera di monopoli dimostra patenti il progresso dell'incivilmento e la prevalenza già presa nelle moderne società dall'elemento civile sopra l'elemento signorile allora lo scomparire dei monopolismi è una prova che l'elemento civile quello della libertà vince sull'elemento signorile del potere del dominio implicitamente però l'argomento antimonopolistico di Roepke e degli odoliberali è presente nell'intero pensiero economico di Roepke Trentano anche se ne fa cenno come abbiamo visto esplicitamente solo una volta infatti eticamente egli esprime un aspetto identico alla funzione del loro antimonopolismo quando afferma che una società civile è tanto più pura di Giorosmini e realizza la libertà come la sua essenza morale quanto riesce a superare l'elemento signorile ne risulta immediatamente che il principio di concorrenza per Rosmini è quello con cui si supera qualsiasi forma di dispottismo sia Rosmini che Roepke denunciano le strutture di potere monopolistico che creano privilegi a scapito della libertà con il termine del feudalesimo proprio in questa dimensione entrambi assumono una posizione che senz'altro si colloca in distanza critica a ogni forma di catolicesimo sociale in questo senso ha sottolineato Piovani occupato con l'attualizzazione del pensiero etico-sociale Rosmini in anni 50 del 1900 dice il cattolicesimo sociale è agli antipodi di questa speranza rosminiana la riforma sociale è il contrario della riforma auspicata di Rosmini per gli aspetti finora analizzati questo giudizio sempre più che giustificato anche però il pericolo più acuto sta in un autentico collettivismo sotto bandiera cristiana come dice lui e cioè in un sinistrismo confessionale passiamo ora a un punto che analizza il rapporto tra economia e valori morali Giuseppe Franco nella sua analisi del pensiero di Roepke definisce l'economia di mercato anche un atto di decentralizzazione sottolineando che per il pensatore tedesco esso deve rispettare e corrispondere alla dignità dell'uomo e cercare il senso di appartenenza alle comunità naturali alla famiglia e all'impresa con questa affermazione e di sottolinea in Roepke proprio quegli aspetti che per Rosmini caratterizzavano le dimensioni che non dovrebbero sottostare al principio di concorrenza sia perché affermano il valore extrasociale della persona in dignità in famiglia in religione costituendo il legame sociale invisibile cioè i presupposti morali di qualsiasi competizione ricerca di potere e dominio in questo senso Rosmini concorderebbe che il mercato è una roditrice di morale e pertanto presuppone delle riserve morali all'infuori dell'economia stessa per il pensatore tedesco la vita economica non si svolge in un vuoto morale essa esige solide fondamenta etiche senza le quali un libero ordinamento non potrebbe mantenersi ad un sufficiente livello morale per questo il carattere sussidiario della società civile in Rosmini è un'affermazione etica e non significa semplicemente decentralizzazione o individualismo ma quel principio sociale che fa risaltare il valore della persona umana non solo come individuo ma in tutti i suoi legami naturali e sociali l'economia il cui compito è di realizzare tramite il mezzo della concorrenza l'ideale della società pura senza dominio e monopoli priva di dispotismo e quindi rimandata sia a forme extrasociali di rapporti in cui si coltivano i valori umani cioè famiglia religione e via dicendo sia all'idea di società pura che ha come principio di orientamento la dignità uguale nei rapporti interpersonali un mercato che si configura in modo umano si trova quindi costitutivamente rimandato a questa realtà per cui famiglia religione e impresa diventano presupposti effettivi per la realizzazione dell'umanesimo attraverso e non nonostante il mercato significativamente anche Röpke sottolinea l'importanza di comunità vere e autentiche precedenti allo Stato intendendone soprattutto la famiglia ma anche religioni e altri tipi di comunità tale carattere sussidiario non significa che l'importanza dell'economia è subordinata alle due società extrasociali né Röpke sono dell'avviso che famiglia e religione precedono la società quindi anche l'ordinamento economico per questo devono in qualche modo normarlo dare norma adesso interferire no in nessun modo o all'idea morale di società pura perché l'economia del mercato l'ordinamento del mercato si riferisce al valore etico della persona quindi dei legami extrasociali di uguaglianza tra individui e quindi il liberalismo della società civile non è subordinato alle società pre-sociali ma alla idea di libertà umana e questa libertà umana radicata nella dignità della persona anche questa come abbiamo visto precede la società concreta le dà norma per Rosmini tutti e tre i tipi di società teoretica teocratica domestica e civile si integrano alla vicenda e devono sempre coesistere è come quasi questo sintesismo dell'essere no? tra ideale reale morale si in qualche modo rispecchiasse qui anche a livello sociale tra società teocratica società domestica e società civile le tre società devono sempre stare insieme a livello umano rispetto alla realizzazione dei valori umani infatti l'economia è un mezzo importante affinché ogni individuo può anche concretamente realizzarlo così è proprio l'economia che impedisce la riduzione dei beni a meri beni soggettivi o utilitaristici implicando un minimo riconoscimento del bene oggettivo e pertanto un minimo di virtù morale il mercato non è la istituzione che riduce i valori a valori soggettivi no per un sminiero il mercato impedisce che i valori si possano ridurre a meri valori soggettivi perché dà a questi valori almeno un minimo di valore oggettivo perché implica il riconoscimento dell'altro costitutivamente questa conclusione si riferisce direttamente alla struttura antropologica della pagamento e lì per Rosmini e Rebke influisce una forte idea antropologica del mercato perché Rosmini e Rebke comunque sono convinti e per questo il libero mercato è la istituzione economica più adatta all'individuo sono convinti che l'uomo non cerca semplicemente soddisfacimento di bisogni cerca appagamento cerca autorealizzazione se si trattasse soltanto di soddisfacimento di bisogni allora anche in teoria un'economia pianificata qualora fosse pianificata veramente a livello perfetto e questo ha dimostrato che non è possibile ma almeno idealmente potrebbe ancora essere una forma di economia giusta per Rosmini però il fatto non sta il fatto del rifiuto dell'economia pianificata non sta nel fatto che una idea teoreticamente giusta idealmente magari possibile nella realtà si dimostra irrealizzabile perché non corrisponde alla limitazione all'uomo al fatto che l'uomo è anche egoista e viceversa no non è questo il punto il punto è che la idea di economia sociale di mercato corrisponde di più alla idea della persona perché la persona non cerca solo soddisfacimento dei bisogni ma autorealizzazione quello che Rosmini chiama nella filosofia della politica l'appagamento affinché i beni appaghino davvero il soggetto così Rosmini esso deve riceverli dalla natura e si dovrebbe aggiungere qui dalla società con gli altri quindi sottomettersi a leggi ontologiche sia della natura che della società nei suoi legami di persone libere Hovel commenta questo ragionamento con un'affermazione che dimostra l'anticipazione da parte di Rosmini della logica dell'economia sociale di mercato quando dice e cito Hovel in tal modo secondo Rosmini l'azione economica non è una mera azione tecnica di coordinamento di mezzi per ottenere un fin determinato soggettivamente ma un'azione retta della ragione pratica mediatrice tra l'utilità personale e la forza della verità e della giustizia Rosmini però non prospetta un'idea utopica che sarebbe cieca ai rischi dello strumento del libero mercato anzi sebbene è convinto che il progresso della scienza economica porterà il supermaramento di tanti mali che si realizzano con gli stessi mezzi economici oltre a questi e li analizza anche l'esistenza dei mali che sarebbero superabili solo con il progresso della scienza morale allora mentre il mercato ci aiuta a rimediare a tanti mali sociali non a tutti risolvere i mali sociali non può essere né un compito soltanto politico questo è l'antisocialismo di Rosmini ma neanche soltanto un compito del mercato insieme a che è dell'avviso che solo il progresso della scienza morale può dar l'ultimo contributo e il progresso della scienza morale per Rosmini anche però significa che in fine l'economia deve sfociarne la religione quindi la impossibilità meramente umana di estinguere veramente ogni male dalla società antiperfettismo anzi senza la virtù extraeconomica della misura e della moderazione che non sono principi economici ma morali infatti in Europe abbiamo anche questa dimensione interessante della moderazione il mercato non funziona semplicemente massimizzando l'outcome l'output massimizzando il profitto no funziona soltanto anche attraverso la virtù della moderazione Rosmini dice sì ci vogliono virtù morali altrimenti i nostri problemi sociali non li riusciamo a risolvere il puro mezzo del mercato cioè la pura massimizzazione del profitto non è risolvitrice di tutti i mali di alcuni sì anzi il roveretano afferma chiaramente che qualora si intendesse l'economia come una scienza pura allora resterà sempre un'ultima conflittualità non risolvibile con i principi morali e Rosmini dice chi si regolasse su questo principio sarebbe meno buono economico ma più morale devierebbe dai principi di una scienza per amore dei principi dell'altra questa importanza della scienza morale per l'economia è un aspetto molto importante anche per Röpke il pensatore tedesco non si stanca di criticare quella forma sociale di capitalismo che non è più di una degenerazione e la caricatura storica dell'economia di mercato oppure una forma abortiva di economia dice Röpke per chiarire il motivo di questo rapporto ampima lente con la morale il romeretano torna nuovamente alla distinzione tra mezzo e fine se si considera l'economia come fine essa produce risultati sociali negativi ma considerata come mezzo non viene semplicemente giudicata neutrale ma anzi moralmente positiva in modo molto repchiano Rosmini afferma che costruire la società solamente sui rapporti economici senza pensare a una dimensione etica dell'ordo è una conseguenza di una antropologia sbagliata che pensa le azioni umane soltanto sulla dimensione del piacere e però fino a tanto che all'uomo non venissero presentati se non beni soggettivi quantunque di varia specie non si vedrebbe sufficiente cagione per la quale nelle sue operazioni dovrebbe apparire una scelta veramente libera di Rosmini siccome la realizzazione di questa dimensione antropologica nel mercato risulta impossibilitata dai principi del collettivismo entrambi i nostri pensatori non usano mezzi termini nei confronti di quest'ultimo mentre Röpke diffida il modo più deciso delle promesse di felicità dei primi socialisti mentre Rosmini diffida il modo più deciso delle promesse di felicità dei primi socialisti come Fourier e descrive la naturale conseguenza che l'individuo non sia più nulla quando il governo è tutto Röpke afferma che il socialismo mette l'accento sullo Stato e sulla società e non sull'individuo sulla sua autonoma responsabilità e sulla dignità che è a lui conaturata infatti è proprio nel confronto con il socialismo che entrambi sottolineano più vehemente questa dimensione antropologico morale dell'economia libera di mercato la dignità della persona innanzitutto è radicata in quella sfera sottratta sia alle dinamiche sociali sia a quelle naturali ossia nella sua finalizzazione trascendente contro tutti i costruttivismi sociali che risultano da una indebita immanentizzazione dell'essere umano entrambi affermano l'essere sottratto e incomunicabile del più intimo nucleo dell'essere umano sulla base di questa antropologia Rosmini può spiegare la formazione del prezzo a partire dal soggetto cioè come risultato del gioco tra offerta e domanda senza dichiararlo una mera espressione di forze soggettive o eudaimonologiche perché nella valutazione oggettiva delle cose così Rosmini influisce non soltanto la loro relazione al piacere ma anche allo spirito e questa è una dimensione molto interessante in Rosmini che esigerebbe tutta una riflessione a sé stante che sia per quanto riguarda la formazione dei prezzi sia per quanto riguarda la dimensione della proprietà privata Rosmini qui ha qualche elemento in più che è Röpke infatti ha un personalismo liberale più fondato rispetto a Röpke ontologicamente fondato e quindi per Rosmini la formazione dei prezzi e l'acquisto della proprietà privata non è mai soltanto un meccanismo una tecnica anche in questi processi per Rosmini si realizzano dimensioni morali delle persone ossia un prezzo si forma non soltanto sulla base di domanda e offerta perché il soggetto in queste dinamiche ci mette delle sue aspettative ci mette il suo desiderio non soltanto di soddisfacimento dei bisogni ma anche di appagamento e la stessa cosa vale per la proprietà privata che per Rosmini in qualche modo è una estensione della persona antropologicamente la mia proprietà privata si collega con me attraverso la proprietà privata si personalizza la materia si realizza si allarga la persona la società si personalizza si personalizza sempre di più attraverso quello strumento che a tanti sembra uno strumento soltanto di egoismo soltanto di materialismo invece Rosmini Rosmini apre la possibilità di una prospettiva personalistica anche sulla proprietà privata in queste due dimensioni Rosmini non dice delle dimensioni che contraddicono alla idea che Röpke ha della formazione dei prezzi e della proprietà privata però Röpke qui Röpke si evince qui che è prevalentemente economista e filosofo economista mentre Rosmini è più economista filosofo ossia riconduce le dinamiche dell'economia molto di più su una antropologia mentre in Röpke abbiamo più quel individualismo della tradizione tedesca a partire dal Kant che abbiamo visto nella prima lezione che però viene in qualche modo arricchito a priori di valori morali cioè Rosmini c'è più antropologia in Röpke c'è più morale questo per quando riguarda l'ordo per quanto riguarda la libera concorrenza per quanto riguarda il compito del governo per quanto riguardano tanti elementi la virtù della moderazione per quanto riguarda come vediamo adesso subito il ruolo dell'intellettuale nella società produce se vogliamo così risultati identici comuni in Rosmini e in Röpke nella formazione dei prezzi e nella stabilizzazione nella realizzazione nell'acquisto della proprietà privata lì vediamo delle differenze che in Rosmini si tratta di atti antropologici mentre in Röpke si tratta di atti economici economico-antropologici cioè economici che trasportano una dimensione antropologica mentre in Röpke sono atti economici che trasportano una dimensione morale potremmo a mio avviso definire la loro differenza in questo modo per concludere negli ultimi pochi minuti che restano di questo videocorso focalizziamo su una dimensione molto interessante e questo è come Rosmini e Röpke vedono la evoluzione della società abbiamo già accennato il fatto che per entrambi la dimensione sociale del mercato l'economia ha una funzione incivilatrice Rosmini parla dell'incivilmento ossia una dinamica storica fanno sì che le società si evolvano adesso come vedono Rosmini e Röpke questa capacità evolutiva questa energia questa dimensione profonda che una società acquisisce dal mercato nella prospettiva di una sua evoluzione di un suo sviluppo per Rosmini la razionalità della libertà come essa viene stabilita secondo lui dall'insieme delle decisioni individuali come caratterizzano il libero mercato all'interno di un ordineamento secondo della giustizia sociale ha dei presupposti socio-culturali che il roveretano elabora in una prospettiva di incivilmento una società di Rosmini una società stabile si caratterizza secondo tale schema per la proporzione giusta tra la ragione pratica delle masse e la ragione speculativa degli individui allora sono due le forze che caratterizzano l'andamento di una società non soltanto la ragione pratica delle masse c'è anche la ragione speculativa degli individui se vogliamo così questo criterio della ragione pratica delle masse in qualche modo realizza ciò che comunemente si intende quando si guarda sulle società una società nasce si invigorisce e in qualche modo decresce in qualche modo si deprime per Rosmini in qualche modo una società vista soltanto sul livello della ragione pratica delle masse insegue questa dinamica però questo non è l'unico elemento che determina l'andamento di una società non è così fatalistico Rosmini infatti con questa ragione speculativa degli individui inserisce un determinato e preciso momento moralines e vediamo anche in Roepke che dice senza delle elite morali senza delle elite intellettuali senza di persone che in qualche modo prospettano una società oltre se stessa che hanno la capacità astrativa la capacità teoretica che accompagnano ciò che altrimenti sarebbe una mera dinamica di cieca dinamica delle masse veramente una società nonostante la istituzione del mercato andrebbe verso un falimento Rosmini riconosce quindi in questo rapporto una tra ragione pratica delle masse e ragione speculativa degli individui in qualche modo una un termometro per valutare lo stato morale di diverse civiltà considerando soltanto la dinamica delle ragioni pratiche delle masse Rosmini distingue il periodo dell'infanzia della società ossia della sua fondazione il bene della società è quello che più vivamente e immediatamente colpisce gli occhi di tutti ossia la utilità della stessa e quindi tale fase sarebbe sempre autorizzata di patriotismo nella fase successiva è assicurata la sua esistenza la società tende all'incremento della società stessa della sua potenza e della sua gloria da tale periodo si passa secondo la lettura di Rosmini a quello del lusso delle delizie che è anche caratterizzato dall'amore della quiete e dei pacifici piageri ma comunque un periodo di declino che spinge sempre di più verso l'egoismo fino a perdere di vista ogni bene della patria e fino al fatto che panem et circense sarebbe l'unico contenuto del pensiero della società in ogni epoca precisa però Rosmini come abbiamo visto opera anche la ragione speculativa degli individui sebbene sarebbe la seconda età sociale quella che mette più in movimento le nazioni e Rosmini vede in questo secondo stadio più quello in cui anche la ragione speculativa dell'intelligenza diventa forte perché si crea di Rosmini in questo secondo periodo la società civile la voglia di potenza la gloria nutrita di prosperità acquisce gli ingeni di Rosmini accresce le forze e il coraggio della massa porta in qualche modo al pensiero ai sistemi filosofici all'arte e via dicendo però anche la terza età quella della ricchezza non è ancora di per sé un declino dimostra un utilizzo avanzato della intelligenza che si articola tramite il commercio delle arti manufattutrici e dell'agricoltura per Rosmini grazie soprattutto al commercio che cosa avviene avviene una formazione della ragione astratta dice Rosmini perché bisogna capire tantissimo che perché lo squadro si estende a tutta la umanità perché il mercato ha questa dinamica porta quindi al massimo dispiegamento della forza intellettiva dell'astrazione sebbene si porrebbe anche nel rischio di logorare insensibilmente e consumare il potere acquisto sulla propria intelligenza Rosmini quindi vede qui un vantaggio nella modernità sociale di mercato un vantaggio del dispiegamento della forza dell'intelligenza e dell'astrazione ma anche il suo rischio insito di consumarsi in questo soprattutto tra il secondo e il terzo stadio quindi si capisce come per Rosmini la società civile è la manifestazione politica di una intelligenza che sia accresciuta di una moralità che si è resa attuale e con essa di un nuovo modo di vivere la libertà e come il mercato deve essere compreso all'interno di essa ma qualora si scioglie da tale contesto porta direttamente al logoramento consumistico della società e quindi alla sua dissoluzione in questa dinamica il cristianesimo contribuisce essenzialmente al retto uso dell'intelligenza e quindi delle ricchezze di Rosmini il cristianesimo quindi soprattutto in questo terzo stadio che come abbiamo capito è stato della modernità in cui la ragione astrattiva l'intelligenza rischia anche di consumarsi di logorarsi ha bisogno di uno stabilimento morale ha bisogno di qualche modo di un rafforzamento e Rosmini dice il cristianesimo quindi i valori morali della persona il personalismo cristiano è un rafforzamento della società in questo stadio affinché non arrivi nel quarto stadio quello del consumismo puro quello della della degenerazione pura questa tendenza che Rosmini prevedeva all'inizio dell'ottocento ora sta pienamente davanti agli occhi di Roepke che la chiamò la massificazione questo quattro stadio di Rosmini Roepke lo chiama la massificazione di una società che si risolve in individui isolati e si addensa in masse e che così ha perduto il legame intimo e organico della vera comunione spontanea e a quanto più le manca una vera coesione tanto più e tante è tenuta insieme dalle ferrie grappe dello stato moderno burocratico e accentrato ma anche l'importanza del bilanciamento della logica delle masse con la intelligenza si trova nella visione di Roepke che sottolinea l'importanza degli intellettuali nella società Roepke dice alla società di massa si deve contrapporre una leadership di pochi con questa affermazione Roepke non pretende affatto più influsso per esperti e tecnici dei processi e calcoli economici che spesso si rivelerebbero di giro intellettuali incerti e incostanti ma e li rivendica come socialmente indispensabile una leadership morale consapevole delle costanti umane che caratterizza anche come santi secolarizzati opponendo alla rivolta delle masse una rivolta delle elite Roepke realizza dunque che il presupposto etico della società il quale garantisce che il mercato libero sia anche inclusivo senza rinunciare alla sua virtualità di creare una società libera e civile non può essere risolto soltanto da un ordo da un ordine astratto da un ordine che è lì ma che esige una elite morale quindi persone attive persone attive che la portano avanti senza le quali non esiste una vera garanzia per la società libera ed è molto interessante vedere che la filosofia della politica di Rosmini finisce con nell'ultimo libro proprio con una descrizione delle virtù del regnante il politico quello che fa il politico quale virtù deve avere perché non basta un ordinamento libero ci vogliono delle elite delle elite morali a cui Rosmini con questa filosofia della politica dà concretamente se vogliamo così un vademecum dà concretamente in qualche modo i dieci comandamenti una deontologia la degenerazione della società civile in società di massa è però perché la vera minaccia alla libertà e Rosmini corrisponde perfettamente a questa analisi quando vede in tale processo una dinamica che porta al dispotismo delle masse la società libera e inclusiva dipende quindi dall'esistenza di attori economici influenti che contrariamente a ciò che sarebbe la logica della massa non agiscono per il proprio bene ma sono capaci di affrontare in modo oggettivo le sfide del bene comune e della politica come base morale dell'economia e di mercato è indispensabile quel patrimonio scrive Europeo etico che abbiamo raggiunto per effetto dello sviluppo millenario dall'antichità attraverso il cristianesimo fino ai giorni di oggi quindi anche Europeo che vede il cristianesimo lì al centro della domanda come in qualche modo si rafforza la sostanza morale anche di una economia di mercato la base etica dell'economia di mercato è costituita da dieci comandamenti dice Europeo l'economista liberale Europeo essi sono indispensabili e allo stesso tempo sufficienti sarebbe solo auspicabili che fossero rispettati e con questa frase di Wilhelm Roepke che riassume in maniera grecia i pensieri di Rosmini e di Roepke sull'economia sarebbe solo auspicabili che fossero rispettati quindi alla fine il funzionamento di una vera economia libera veramente la realizzazione della libertà non è qualcosa che si realizza meccanisticamente o per il sapere di esperti e di tecnici ma ci vogliono persone moralmente convinti ci vogliono in qualche modo santi secolarizzati eroi della nostra società o semplicemente anche persone che prendono molto sul serio la propria responsabilità e che si mettono in carica si mettono in servizio alla società e alla libertà quindi sarebbero auspicabili che questi dieci comandamenti come basi dell'economia libera di mercato fossero rispettati e grazie dell'ascolto rispettati